Perfino il più sciocco, posa cenere souvenir, può diventare uno spinterogeno narrativo. Raccontare il giornalismo partendo dagli oggetti, sarà questo il filo conduttore dello spettacolo che Fulvio Abate porterà in scena questa sera al Teatro della Sapienza. Dimenticavo stamattina, mi sono svegliato pensando quanto fosse detestabile Oriana Fallaci. Ironico, scomodo, pungente. Negli ultimi anni è stato autore di libri e articoli, opinionista TV, leader e fondatore di un movimento politico, Situazionismo e Libertà. Mi domando quanto ho fatto bene a decidere di non presentare la mia candidatura come sindaco di Roma. È la mente dietro Teledurruti. Teledurruti, una televisione monolocale. Torno ad essere stato al supermercato. Non vuole farsi definire giornalista, ma sul mestiere ha le idee molto chiare. Ma se vuoi fare da cranto, astronauto, autosalone, aprire autosalone di macchine. E io giornalisto, ecco, giornalisto, no.